Viviamo una vera e propria emergenza ambientale. Il clima sta mutando, le risorse energetiche si esauriscono, l'inquinamento ha raggiunto livelli esasperanti per la Terra. Ritornare a pensare alla stretta connessione che c'è tra le persone e la natura, da cui l'essere umano trae origine e sostentamento, porta a pensare che stiamo sfruttando la Terra senza riconoscerne alcun diritto. I vertici internazionali, come l'ultimo nel 2009 a Copenhagen, hanno dimostrato un fallimento nella ricerca di strumenti legislativi condivisi sulle tematiche ambientali e sono soprattutto i giovani a chiedersi cosa ne sarà del futuro. Continuano a dirmi che non c'è lavoro, non c'è posto, non ci sono più soldi, la natura, noi siamo qua in Lombardia, la regione che amiamo, in cui siamo nati, però anche la regione è una delle più inquinate del mondo, non d'Europa, quindi in fondo è un'opportunità per capire prima di altri che è tempo di cambiare. Le scuole sono un percorso fondamentale, i diritti della natura sono un po' quello che riguarderebbe il nostro futuro, cioè la capacità di comprendere il nostro ruolo all'interno di questa comunità che è la Terra in maniera da veramente passare a un futuro sostenibile anche attraverso la tecnologia. L'Equador nel 2008 ha votato attraverso un referendum l'inserimento nella Costituzione dei diritti della madre Terra. È tempo che una rivoluzione culturale e giuridica che veda la Terra come soggetto e non oggetto arrivi anche in Europa. E a questo scopo un gruppo di avvocati e scrittori ha deciso di inviare una lettera al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, perché venga presa in considerazione l'idea di inserire nella Costituzione italiana i diritti della natura. Essendo la Costituzione la fonte primaria di ogni ordinamento legislativo, ordinamento giuridico, ci sembra assurdo il fatto che la nostra Costituzione italiana non contenga né la parola ambiente né la parola salvaguardia dell'ambiente e tantomeno la parola natura, a cui noi vogliamo saltare direttamente per arrivare a sperare in un riconoscimento costituzionale dei diritti della natura stessa.